arriva il nonno ciao cos'è la sciancratura finalmente siamo al quarantesimo video ed abbiamo un termine italiano la sciancatura il mondo dello snowboard e la sagoma a forma di arco che caratterizza il fianco dello stesso snowboard facile no ci sono diversi tipi di sciancatura però noi oggi vediamo solamente la caratteristica principale parliamo quindi di raggio di sciancratura più il raggio grande e la tavola sarà adatta a curve lunghe più il raggio è piccolo la tavola sarà adatta a curve strette e veloci infine vediamo come misurare la profondità di sciancratura si poggia lo snowboard su una superficie piano inclinata a 90 gradi e si misura la distanza tra il centro della tavola e la superficie grazie per avermi seguito fino qui al quarantesimo video se sei nuovo ti invito a iscriverti al canale di cliccare sulla campanellina per ricevere la notifica dei prossimi video poi magari lascia anche messaggio ci vediamo in pista ciao 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 ciao